Ecco, mi fa molto piacere essere qui per questa conversazione con Germano Germano non ha ovviamente bisogno di presentazioni è un autore che negli ultimi anni ha pubblicato tutta una serie di libri che sono stati oggetto di dibattito e di studio di tutta la comunità italiana degli storici e internazionale perché anche molti di questi testi sono stati tradotti Italia, storie di ebrei recente come insieme a Firpo l'Eretico che salvò la Chiesa su Giovanni Morone i Deanari dell'Inquisizione che è stato un libro di svolta nella storiografia dell'Inquisizione e poi questo libro veramente interessante bellissimo, Immagini Contese che è una storia politica delle figure da rinascimento alla Cancel Cancer Germano non ha bisogno di presentazioni invece io ho bisogno di auto-presentarmi io sono Stefano Villani sono uno storico dell'età moderna che vive e insegna negli Stati Uniti e all'Università del Maryland che è non lontana da Washington DC ho fatto i miei studi in Italia ero professore all'Università di Pisa e poi ho accettato un'offerta dall'Università del Maryland quindi sono tra le due culture e rispetto al tema affascinante del libro la ragione per cui con tanta gentilezza Germano ha pensato che potesse essere una conversazione interessante da farsi come io che ho sempre lavorato per l'età moderna per i secoli che vanno dal XVI al XVIII sulle due culture inglese e italiana la questione delle immagini è centrale perché nella cultura protestante di stampo calvinista che è anche quella che ha in qualche maniera informato la teologia della chiesa anglicana che è l'oggetto principale delle mie ricerche la tradizione segue quella ebraica e calvinista del decalogo in cui c'è un comandamento specifico contro le immagini non ti farei alcuna scultura le immagini la tradizione cattolica percepita poi anche da quella luterana invece non ha un comandamento specifico contro le immagini semplicemente nel primo comandamento dice il signore Dio tuo non ha altre idee di fronte a me né ti farà idolo né immagine quindi diciamo è inserito in una cosa e quindi di fatto è una cultura che privilegia l'uso delle immagini a differenza dell'altra ed è per questo che nel mondo protestante fenomeni di iconoclasmo sono ricorrenti il libro è veramente molto bello molto innovativo è un libro che diciamo a differenza di alcuni testi della tradizione italiana riesce a coniugare un rigore assoluto nella ricerca con uno stile di scrittura che è piacevolissima e che quindi si rivolge a un pubblico di lettori che è molto più ampio di quello degli specialisti la formazione di Germano è quella di uno storico economico questa è anche una storia economica se non principalmente una storia economica per molti aspetti e devo dire che appunto anche il dibattito che sta suscitando sui giornali alla radio alla televisione dimostra che coglie un punto importante una delle cose che Germano dice nel test e poi smette da parlare all'autore che è chiaramente le cose più interessanti da dire è proprio l'idea alla base del percorso che si articola in tre capitoli che sono cronologici e tematici quindi l'età moderna con il diciassettesimo secolo il dibattito appunto sulle immagini scaturite dalla riforma protestante quello ottocentesco dell'Italia unita e poi quello novecentesco con un capitolo estremamente suggestivo innovativo in cui appunto attraverso la documentazione dei sequestri delle case al nemico durante la guerra si ricostruisce poi anche quella che è un'ecologia dell'immagine come viene definita in maniera estremamente efficace da Germano dicevo il filo rosso che lega queste tre sezioni cronologiche e tematiche è l'idea che ogni testimonianza visiva incorpora in sé i rapporti di potere come diceva già Baxandall è un deposito di relazioni sociali e quindi bisogna conoscere il contesto interrogarsi sulle ragioni per cui esistono e diciamo unire la parola all'immagine la conclusione del libro ricorda questo storico dell'arte e della cultura Gombrich che parla del valore pedagogico delle immagini e l'esercizio della descrizione di un'immagine che impone anche qualche lentezza perché diciamo un'altra delle cose che rendono questo libro così attuale è anche le vicende politiche che hanno avuto al centro la contestazione delle statue e delle immagini in un'epoca che sembra proprio caratterizzata invece da una immediatezza che in qualche maniera non permette la riflessione lascio la parola a Maifreda facendo subito diciamo quella che è una domanda ho sentito le tue presentazioni in alcuni programmi e spesso sembra di avvertire tra chi dialoga con te la sorpresa e il disagio di scoprire che uno storico in fondo pensa che se si distrugge qualche statua forse non è poi così male che è molto peggio l'indifferenza che non un atto distruttivo di quella che comunque viene dal pubblico più generale percepita come una testimonianza del passato ecco forse questo può essere il punto di partenza anche per sentire la tua voce e mi scuso di essere stato così lungo no anzi veramente grazie molto per aver accettato di presentare il libro e grazie per la presentazione troppo lusinghiera e ci sono tante cose che ci uniscono abbiamo lavorato con Stefano a tante iniziative spero che continueremo a farlo e secondo me il fatto che tu oggi sia qui a parlare con noi arricchisce molto la conversazione anche rispetto ad altri dialoghi che ho avuto su questo stesso libro proprio per il fatto che la tua è una voce che proviene dall'oltreoceano proviene per chi non lo sapesse l'università del Maryland l'università del Maryland si trova alle porte di Washington DC quindi Stefano ha vissuto in diretta e anche preso parte spero di poterlo rivelare ma insomma poi spero che ci derai anche tu qualche parola sulle tue esperienze dirette ai momenti più caldi delle manifestazioni delle prese di posizione politiche attorno al Black Lives Matter e alcune altre movimenti sociali degli ultimi anni quindi veramente mi fa molto piacere che tu sia qui e spero che poi anche questo punto su cui stiamo iniziando a parlare davanti agli nostri ascoltatori possa poi diventare chissà magari una futura collaborazione anche scientifica sì e proprio come dici tu c'è disorientamento e c'è stupore quando uno storico assume delle posizioni forse eterodosse rispetto alle testimonianze del passato io sarei ancora più estremo rispetto a quando tu dicevi nell'ultima frase cioè alla fine secondo me la cosa importante è la felicità delle persone non sono le statue e arriverei a provocatoriamente a dire che ci importa di una statua se questa limita la felicità delle persone e uso il termine felicità naturalmente non per caso parlando con uno storico dell'età moderna e parlando di uno storico che vive e opera in contesti che sono diventati tali grazie a una rivoluzione insomma come una rivoluzione americana in cui il termine felicità è stato un termine importante e quindi mi piaceva sì scrivere un libro che avesse appunto la possibilità di presentare il punto di vista dello storico su un tema d'attualità e presentare un po' questo paradosso che a me sembra tale insomma da una parte abbiamo appunto un ritorno di attenzione di proiezione pubblica di importanza delle forme pubbliche nello spazio delle immagini ma delle statue delle immagini simboliche delle fotografie del cinema legato sicuramente io non so trovare altra spiegazione insomma alla centralità che l'immagine ha nella nostra vita oggi attraverso i social non basta la tv credo perché le statue che erano qualche decennio fa non erano non erano così così al centro del nostro dibattito probabilmente venivano imbrattate ma non ce ne accorgeremo né non ce ne accorgevamo i giornali non ne parlavano improvvisamente la statua in quanto immagine nello spazio pubblico io insisto piuttosto su questo su questo problema e tema dello spazio pubblico perché una statua è tale nel momento in cui glorifica un episodio passato collocandolo in uno spazio pubblico che dovrebbe essere spazio di tutti in cui tutti si riconoscono ed è qui che diventa interessante secondo me il punto per l'attualità per l'opinione pubblica per la politica direi anche e per lo storico cioè non solo sono un po' due le cose che io provo a dire nel libro insomma non solo le immagini collocate nello spazio pubblico non sono mai neutre perché originano da equilibri di potere originano da progetti specifici di uso pubblicitario dell'episodio che si vuole andare a illustrare ma anche queste stesse immagini sono collocate in uno spazio che diventa sempre più pluriculturale man mano che la società che il mondo si globalizza le migrazioni i cambiamenti di sensibilità culturale identitaria creano gruppi sociali nuovi o magari vecchi che però tornano a ritrovare una voce allora se lo spazio politico è pubblico è pluriculturale sempre più in futuro ci troveremo a affrontare una difficoltà cioè i simboli le immagini gli usi politici dello spazio pubblico che in passato erano accettati o anche soltanto vissuti con indifferenza di chi passa in una piazza e non alza gli occhi alla statua sempre più dicevo in futuro potranno diventare conflittuali perché è cambiato il pubblico è cambiato il collettivo è cambiata la percezione che i gruppi sociali hanno sempre più e credo che questo sarà un fenomeno che proseguirà nel futuro le persone sono tentate desiderano definirsi in base anche un'appartenenza di gruppo e non più solo in base un'appartenenza di classe o economica e questo sempre più porterà la cultura nel dibattito in fondo stiamo parlando per parlare fra storici di un dilagare della cultural history e degli strumenti culturali nella lettura delle relazioni politiche spaziali e quindi per tornare alla tua domanda quello che stupisce un interlocutore che dà per scontato che uno storico sia sempre per definizione conservatore è la mia posizione che è l'opposto cioè io non credo che gli storici dovrebbero intervenire nel decidere o nel suggerire al pubblico se un obelisco una statua un monumento debbano o non debbano rimanere dove sono credo che questa decisione ultima aspetti alle cittadine ai cittadini che ogni giorno vivono lo spazio pubblico e che dovrebbero trovare delle assemblee probabilmente un po' come quelli che leggo essere negli Stati Uniti design council che esistono nelle varie città che democraticamente recepiscono valutano istanze che emergono dalla cittadinanza per esempio raccolte di firme e petizioni e democraticamente esprimono un voto ecco in Italia questa cosa non c'è e quindi alcune forme anche clamorose di contestazione delle immagini emergono anche dall'insoddisfazione di non sapere come dare voce all'insoddisfazione che oggi ripeto in una società pluriculturale genera un uso politico dello spazio pubblico che abbiamo arreditato dal passato ti ringrazio molto e secondo me ti poni al centro della tua riflessione questioni che hanno un impatto politico notevolissimo qui negli Stati Uniti il dibattito sulla memorializzazione anche della parte sconfitta durante la guerra civile è stato molto intensa fin dagli anni 60 proprio anche su questo spazio pubblico occupato da Stato e che molto spesso erano state poi erette ai primi del Novecento e quindi avevano un chiaro significato di difesa della società segregata statunitense il dibattito ha avuto un'accelerazione notevole indubbiamente con l'elezione di Trump prima e poi appunto con l'omicidio di George Floyd nel maggio del 2020 e diciamo con le immagini che tutti nel mondo hanno visto dell'abbattimento delle statue e anche nell'area di Washington meno che in alcuni degli stati del sud o in altri stati però appunto queste manifestazioni hanno portato all'abbattimento ad esempio della statua di Albert Pike che era un generale confederato massone che era appunto in una delle piazze centrali di Washington DC il tentativo di di abbattere la statua di Andrew Jackson durante le manifestazioni di fronte alla Casa Bianca nel giugno del 2020 e poi sempre in quel in quella settimana diciamo del giugno del 2020 il tentativo di abbattere il monumento per l'emancipazione con Lincoln che cerca di sollevare uno schiavo in catene lì devo dire inizia subito ad essere avvertibile quella che è la complessità della vicenda perché quella era una statua che era stata fatta con i soldi degli schiavi liberati e all'inaugurazione aveva parlato Frederick Douglass e appunto aveva messo in evidenza fin da subito anche questo aspetto paternalistico e diciamo io che ho una sono un professore di mezza età sono andato ad alcune di queste manifestazioni diciamo senza però appunto essermi mai messo in condizione di poter essere arrestato era il periodo anche della pandemia quindi era il periodo in cui c'era a un certo punto anche la difficoltà di muoversi ma devo dire che era molto interessato sia dal punto di vista civile e politico che dal punto di vista che dal punto di vista dello storico ecco rispetto a questo devo dire che nel sottotitolo tu parli della cancel culture e fai riferimento anche a questo nell'introduzione dicendo la cosiddetta cancel culture e appunto sostanzialmente ribadendo quello che stai dicendo che è un processo inevitabile detto che dal punto di vista teorico sono molto d'accordo con questo che dici che soprattutto per quanto riguarda lo spazio pubblico si parla di riconfigurazione del potere devo dire che io avverto molto il rischio di quella che Adriano Prosperi ha definito un tempo senza storia diciamo e il rischio che appunto una contestazione della memorializzazione del passato per esigenze politiche immediate e contemporanee chi contesta la statua ai generali confederati non contesta ovviamente il passato contesta il presente contesta il presente che è frutto di quel passato e diciamo contesta il razzismo strutturale di questa società devo dire che il rischio di un tempo senza passato e il rischio di non indagare il contesto e quindi sostanzialmente anche creare un'uniformità anche di pensiero nel mondo accademico è un rischio che io avverto forte proprio con anche la partecipazione politica di chi ha comunque contribuito a questo contesto e quindi ad esempio non ti nascondo che ho accettato con molto piacere di fare questa conversazione con te anche perché eri in italiano perché so che ad esempio se uno dicesse che alcune delle decisioni che vengono prese ora su quella che è la identity politics di l'enfatizzare l'aspetto razziale e così solo il fatto di sollevare dei dubbi crea dei problemi nel contesto accademico americano e quindi devo dire da questo punto di vista è molto interessante vedere come il dibattito in Italia sia in una qualche maniera molto differente da quello che viviamo ora in questo momento mentre sono d'accordo su tutto quello che dici il libro è veramente bellissimo e raffinato perché indaga il cinema la musica l'architettura l'arte devo dire che nel contesto contemporaneo sono d'accordo contello storico non deve dire cosa si deve rimanere o cosa deve essere abbattuto ma fermare una posizione storicista secondo me invece di contro all'identity politics che privilegia la frammentazione delle esigenze secondo me è invece un dovere della nostra professione non so se su questo la pensi come me o no sì sicuramente io penso che con lo storico quello che può fare che deve fare è appunto creare il contesto io penso che il contesto sia la nostra competenza un po' come i medici e i virologi si devono esprimere sui vaccini gli storici dovrebbero essere i professionisti che per primi e anche per ultimi io penso debbano dire devono spiegare il contesto sai benissimo è meglio di me con quanta fatica si ricostruiscono i contesti servono anni di archivio per ricostruire i contesti e ancora oggi noi poi dibattiamo sui contesti esattamente come i medici dibattono sulla quarta dose o la quinta dose cioè la ricostruzione del contesto è secondo me la specialità dello storico ed è ed è una forma di professionalità che può restituire anche alla società di oggi i pregiudizi con cui spesso i contesti vengono ricostruiti io temo molto che la parola contesto stia diventando da parola diciamo progressista a parola conservatrice perché in Italia almeno si evoca il contesto per riaffermare i propri giudizi quindi siccome il contesto della costruzione dell'obelisco a Mussolini dell'Euro e questo alcuni inferirebbero che allora bisogna lasciarlo io credo che i cittadini e le cittadine oggi possano ed è una provocazione consapevole possano fregarsene nel contesto il punto è come benissimo hai detto tu cosa loro pensano della società di oggi cosa noi pensiamo della società di oggi e come vogliamo esprimere una contestazione io credo che le contestazioni soprattutto quando riguardano minoranze i cui identità e i cui diritti sono stati per secoli per millenni calpestati debbano porre in atto delle azioni clamorose visibili scioccanti la stessa la stessa Rosa Parks ha dato il via come come sapranno molti di quelli che ci ascoltano a un boicottaggio dei mezzi pubblici dell'alabama coordinato da Martin Luther King che ha organizzato un sistema di taxi a prezzi politici così facendo venendo arrestato a sua volta in quanto trasgrediva le leggi dell'alabama che facevano cartello contro i mezzi pubblici quindi l'emancipazione dei neri di alcuni stati del sudamericano è partita da un gesto di boicottaggio che invece è proprio quello che oggi talvolta si considera il massimo dell'inciviltà oddio stiamo boicottando Barilla stiamo boicottando Dolce Gabbana come se il consumatore non avesse una voce non potesse prendere la voce mentre il capitalista può prenderla per insultare i suoi consumatori e quindi il contesto sì mi domando anche se altre forme che in passato hanno fatto la storia dei movimenti sociali dal basso pensiamo al femminismo pensiamo ai movimenti degli anni 70 fossero poi così rispettosi del contesto insomma quando negli anni 70 si contestavano le lezioni dei grandissimi padri della storiografia italiana all'università a nessuno interessava poi forse il contesto perché in quel momento erano le altre le istanze quindi anche questa categoria di cancellare in Italia questa cosa della cancel culture è arrivata appunto senza virgolette al punto che quando io provo a spiegare che il termine è un termine denigratorio molti si stupiscono perché in Italia cancel culture è arrivato come rinascimento o come medioevo come se fosse un termine senza qualificazioni noi sappiamo che hanno qualificazioni anche medioevo rinascimento ma la maggior ragione c'è la cancel culture e quindi c'è una smemoratezza generale sono d'accordo e c'è il rischio di un tempo senza storia io sono pessimista sul fatto che gli storici possano reinsegnare la storia e vedo anche con qualche simpatia che la storia sia riappropriata ridiscussa contestata se questo significa quantomeno prenderla sul serio ecco sì sono d'accordo credo che abbiamo veramente pochissimi minuti quando quello che ti volevo dire è che sono appunto assolutamente d'accordo con quanto stai dicendo è che per come sta prendendo come si sta sviluppando il dibattito tanto per fare un esempio rispetto alle cose che hai appena detto te se io dicessi ora che citassi la frase famosa di Martin Luther King che è un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una reazione nella quale non saranno giudicati per il calore della pelle ma per le qualità del loro carattere questo verrebbe immediatamente considerata un'affermazione razzista su questo io ho una posizione che risusciterebbe reazioni gravi e poi lascialo perché la parola ultima aspetta a te ad esempio nell'ultimo capitolo te parli della vicenda delle 120 giornate di Sodoma e di Pasolini devo dire che ormai io ho molte difficoltà nel corso di dottorato su History in Theory a presentare testi di Foucault che viene considerato in una maniera che secondo me è non storicista così come un pedofilo e la stessa cosa se succedesse per Pasolini probabilmente sarebbe un autore che verrebbe vivacemente contestato e quindi che dovrebbe essere eliminato come d'altro canto forse gran parte della tradizione occidentale da Platone in poi passando per Voltaire e da Jefferson che la schiavitù ha avuto un ruolo determinante quindi diciamo proprio perché il libro è molto stimolante credo che ci permetta di riflettere e mi piace fare queste affermazioni perché vengono da uno che ha partecipato alle manifestazioni di Black Lives Matter e che avrebbe visto con piacere anche l'abbattimento forse di qualche stato in più di quelle che sono state abbattute a Washington sì pensavo a questo quando tu parlavi anche questa è una credo una posizione forse un po' provocatoria è un po' è un po' estrema cioè gli fenomeni distorsivi che tu metti in atto sono dei fenomeni secondo me che in Italia noi tendiamo a leggere come dei fenomeni moralistici di costume di pruderì protestante ma che credo siano il frutto di un'industria culturale accademica giornalistica come quella statunitense che ha una vocazione al dominio globale come sempre gli Stati Uniti insomma da almeno oltre un secolo hanno vocazione al dominio globale per questo tipo di progetto è necessario essere tra molte virgolette inclusivi con tutte le distorsioni che tu metti in atto perché è proprio grazie a questa capacità tipicamente statunitense di creare un melting pot inclusivo tra molte virgolette che oggi gli Stati Uniti cioè l'unica vera democrazia che può ambire a dire la propria parola sullo scacchiere mondiale può ambire a famare le elite della diplomazia della politica e del governo del futuro può ambire a rimanere un punto di riferimento per chi desidera mandare i propri figli in una prestigiosissima università come quella in cui tu insegni cioè mi domando se l'ossessione per il politically correct per l'inclusività per la neutralità della comunicazione che vediamo nell'industria editoriale nell'industria giornalistica nell'industria accademica non sia nel prezzo che noi dobbiamo pagare oggi per poter fare in modo che almeno una potenza democratica possa continuare a contendersi il mondo l'alternativa sappiamo benissimo qual è cioè due potenze autocrate che vogliono svolgere la stessa funzione cioè su questo io veramente mi fermerei cioè se il prezzo da pagare è a livello di undergraduate sfumare la presenza di 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 maometto nell'inferno dantesco secondo me può essere un prezzo da pagare per consentire agli Stati Uniti di continuare a parlare al mondo c'è l'Europa che secondo me ha una voce flebile ma che dovrebbe farsi sentire l'idea che ci sia un potere che esercita un'egemonia al di fuori di un controllo democratico delle persone che sono sottoposte a queste forme di potere secondo me è molto rischioso devo dire che questa quest'ultima frase che tu hai detto e che non c'è nel libro ma che hai ripetuto anche in altre presentazioni ha per me un pochino un sapore paternalista nel senso che appunto comunque si ritiene impossibile avere un dibattito alla pari con culture differenti quando invece secondo me come noi studiamo la storia religiosa del nostro paese dobbiamo confidare nella maturità anche delle altre culture di acquisire strumenti raffinati di interpretazione ma il dibattito è aperto e il libro è proprio bellissimo perché invita a pensare e quindi grazie grazie moltissime Stefano grazie a chi ci ha seguito grazie grazie a chi grazie a chi grazie a chi grazie a chi